C'è una zona che meno conosci di te Tre giorni straordinari, tre giorni della festa patronale Festa patronale dedicata alla nostra Madonna di Loretta, al nostro Santo Stefano ma non conclude, non si conclude stasera Stasera c'è il grande evento con Anna Tatangelo ma il calendario continuerà Il concerto di Anna Tatangelo a suggellare i tre giorni di festa patronale di Trinitapoli in migliaia hanno riempito le strade cittadine non soltanto per l'evento con l'artista laziale ma anche per le attività correlate che hanno caratterizzato i giorni più sentiti dell'estate Si conclude la tre giorni della festa patronale rinnovata con il concerto di Anna Tatangelo un grandissimo successo, tantissima gente, un successo per l'amministrazione di Feo e per il lavoro svolto dal nostro assessorato, dagli uffici e dal comune di Trinitapoli che si porta a casa questo grandissimo successo del 16 agosto a conclusione di questa bellissima festa patronale Il cartellone estivo di Trinitapoli non si conclude con il concerto di Anna Tatangelo sicuramente l'evento di punta del programma di agosto ma prosegue nel segno della valorizzazione del territorio attraverso musica, sport e sociale Devo dire che stiamo veramente vivendo una stagione straordinaria con un calendario eccezionale, con una Trinitapoli sempre in fermento, sempre viva, sempre in movimento e questo ci sta veramente rendendo di gioia perché girando per le vie cittadine, per la nostra comunità sto riscontrando veramente tanto consenso nella popolazione sono veramente allegri, felici, sono soddisfatti di avere una Trinitapoli che sorride una Trinitapoli che sta veramente tornando a ciò che si aspettava a ciò che desiderava da tanto tempo non soltanto i nostri concittadini ma anche i tanti che vivono fuori che sono venuti qui a passare le vacanze e che stanno trascorrendo delle giornate straordinarie